Presidente Fedriga, il governo ha eliminato la zona franca nel porto vecchio di Trieste e il carroccio non ci sta? È una vergogna quanto è accaduto con un emendamento del senatore russo. Nemmeno votato al Senato, ma fatto proprio dal governo nel maxi emendamento, nella sostanza si va a depauperare Trieste di una grande potenzialità. Il porto franco nord sarebbe un fiore all'occhiello se venissero emanati dal governo tutti i decreti necessari ad attuare tutti i vantaggi fiscali della zona franca, avrebbe un vantaggio dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista delle attività produttive e quindi dal punto di vista occupazionale. Invece si preferisce privilegiare un progetto nel quale si prevede l'eliminazione della zona franca, l'eliminazione del demanio e quindi nella sostanza il forte rischio di una speculazione edilizia che serve solo a fare gli interessi di qualche privato, ma non gli interessi generali della collettività di Trieste. Non ci stiamo a questo gioco al massacro. Continueremo la battaglia anche dopo questo blitz vergognoso fatto di notte al Senato in un maxi emendamento e drammaticamente devo dire che chi fa le cose di nascosto, senza un confronto, io lo chiamo ladro. Non ci sto a far rubare a Trieste la sua ricchezza, le sue potenzialità. La Lega continuerà la battaglia e cercherà anzi di ampliare la zona franca e di portare maggiori benefici per la zona franca stessa. Questo non è un vantaggio solo per Trieste ma per tutta la regione e anzi, dico di più, per tutto il nord del paese. Vorrei sapere in quale altra parte al mondo ci sono degli esponenti politici locali che invece di richiedere zone franche e valorizzare le zone franche, fanno il gioco al massacro di volerle togliere.